Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di Roblox, sono il vostro carissimo Bellafaccia e come state guardate ho comprato un nuovo mantello da re, perchè ora sono re Bellafaccia, fatemi sapere se volete che tengo questo mantello, vi piace il mio nuovo mantello? È fantastico! Allora dove ci troviamo? In un nuovo giochino fantastico, dovete subito lasciare un mi piace come sempre e dovete iscrivervi ok? Se volete anche voi un mantello, ok? Allora cominciamo, innanzitutto vi spiego le regole, noi dobbiamo prendere delle scarpe e dobbiamo riuscire a trasportarle fino qua, in pratica è come il giochino dei muscoli che stiamo facendo con Kendal, però le scarpe peseranno, quindi sarà veramente difficile, dobbiamo trasportare le scarpette, quindi ad esempio prendiamo queste, ok queste qui, guardate che belle, sono delle scarpe giganti, ok portiamole qui Ok perfetto e mi dà l'energia che poi useremo là nei tapirulan, ad esempio comunque queste scarpe pesano così tanto che io vedete non riesco neanche a muovermi, sono ultra pesanti, quindi dobbiamo prendere queste prima Ok prendiamo queste, vediamo posso prenderne due? No non posso prenderne neanche due, posso prenderne solo una, ok veloce 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 Ok vai e dopo con tutta questa energia ragazzi io posso salire nei tapirulan e aumentare penso la forza, posso aumentare un sacco di cose, c'è anche lo shop qua Magari se questo video vi piace e arriva magari a un bel po' di mi piace possiamo pensare di shopparci qualcosina, ok Allora mettiamoci qua sul tapirulan, scusa devo entrare qua, pam 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 pam, ok più 4 di velocità, questa dovrebbe essere velocità, questo non so che cosa sia Ci dovrebbero essere anche dei pet comunque, ok vediamo, qualcosa da prendere con i bonus, niente Qui ci sono i pet, no energia, open, vediamo altro shop, qua cos'è? Tutto shop, tutto shop porca miseria, ok vai prendiamo altre scarpine Mamma mia questo mantello mi piace un sacco ragazzi mi sento veramente un re, ok posso portarne due, posso portarne due mamma mia Prima pesavano un sacco ma finalmente posso portarne due, allora vediamo forse posso portarne anche di più eh, devo capire un attimo come funziona Allora tre, tre posso portarne, ok posso portarne tre, vediamo l'energia, uh adesso si che si comincia a ragionare eh, ok vediamo queste quanto pesano Ok guardate quanto vado lento, vado lento con due sicuramente non ce la faccio, no infatti non mi riesco a muovere aiuto, ok queste sono pesanti Vediamo quante energie mi danno, quante energie mi dai, ok più quattro, molto buono, molto buono, queste qui riesco a spostarle 15 speed Eh non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, vai 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 dobbiamo aumentare la velocità Aumentiamo la velocità, ok perfetto allora la speed in pratica è quello E qua mi è richiesto allora requisito 3 di speed Ok direi che, no non ce l'abbiamo, ok posso prenderne due, ok quindi questo qui è per portare un sacco di scarpe in più E la velocità dovrebbe essere quella, ok poi se ci giocate ditemi, consigliatemi delle cosine magari I codici ragazzi scrivetemi tutti i codici Codice vediamo Oh, si mi ha dato un codice, mi ha dato un codice, si, più due speed, perfetto C'erano due codici, che non sono serviti a niente mamma mia Ok comunque sia se conoscete dei codici scriveteli ragazzi eh mi raccomando Forza forza portiamo tutte le scarpe che possiamo Mamma mia già questo mantello pesa, ok guardate questo com'è veloce Poi possiamo aumentare la velocità, guardate com'è veloce Si è teletrasportato tipo questo, quindi si è speed, non posso Mamma mia questo 3, ok ne posso portare 3, 6, ok ne ho 7 quindi arrivo massimo a 6 Ok ok bella faccia stai capendo, stai capendo come indossare delle scarpe fantastiche Ok quindi se adesso vado sul tapirulano dovrei riuscire a spostare quelle in teoria Giusto o sbagliato? Vediamo Ok 16, vediamo Questo 40, ok quindi questo ce la facciamo? Si, perfetto ce la facciamo Mamma mia ma è possibile che queste scarpe sono così pesanti? Ok perfetto più 17 Poi uh c'è un regalo del giorno lì C'è un regalo del giorno E poi c'è anche eventi? Allora vediamo il regalo del giorno Cos'è sto coso? Pet shop? Ma l'ho visto adesso che c'è il pet shop Pet shop ci sono dei pet Vediamo Allora pet Ma cavolo ma costano un sacco Ah per due questi sono in omaggio Ok Vediamo daily Prendiamo Prima del giorno No non posso Evento 5 milioni o 5 minuti? In 5 milioni e 5 minuti deve entrare la mamma mia Sono proprio un re ragazzi Fammi andare nell'evento Sono uno speedy knob Perfetto non posso Oh posso andare? Posso entrare qua? Sì vabbè 60 speed 600 E' meglio tornare a casa 24 cavolo Uh guardate che roba Sì vabbè ragazzi Ma guardate i pet che hanno questi Oh mio dio E' meglio tornare a casa Ve lo dico io Allora visto che ce li abbiamo Usiamo per due d'energia Usiamo la speed E il trasporto Ok per mezz'ora Per mezz'ora Per fortuna che li ho visti Ok vediamo Prendiamo queste Ok 3 Prendiamo queste Ok Le fai prendere? No solo 3 posso portarne Massimo Mio dio quanto va veloce questo E' velocissimo Ok perfetto Ok allora vediamo 16 Vediamo Prendiamo questo Pam 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 Non riesco a spostarle No non riesco a spostarle Ragazzi Incredibile Prendiamo questi Famili prendere Non posso prenderle? Me ne fa prendere solo di un tipo Ma dai me ne fa prendere solo di un tipo Non è giusto Ok ok 34 Ok Farmiamo un sacco di scarpe Apriamo un negozio di scarpe ragazzi Ok forza forza Corri 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 Bella faccia Vai 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 P24 Mio dio dobbiamo passare attraverso quello Serve 250 di forza Serve 250 di forza Ce la dobbiamo fare Vai 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 Corri 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 Ok 100 Vai direi che è arrivato il momento Di fare un po' di shocking Forza aumentiamo Aumentiamo la forza 40 Guardate quanto Ok Direi quindi che possiamo spostare queste Vai 40 Oh mamma mia quanto sono pesanti Forza forza sono delle scarpe d'oro Vai Ok 100 Mio dio quanto da Ha dato 100 Ha dato un sacco Vai 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 Che arriviamo Oh mio dio Ma quelli sono potentissimi Forza muoviti bella faccia Che voglio entrare nella nuova zona Dobbiamo assolutamente entrare nella nuova zona Guardate quanto ho 200.000 Sarà pochissimo sicuramente Ai livelli alti Avranno delle scarpe incredibili Avranno una forza super Vediamo queste invece 120 Se ci alleniamo un po' Ce la dobbiamo fare Ce la dovremmo fare Caricari 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 Ok 88 Dovremmo riuscire a spostarne due di queste gialle Sì Vai 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 Bella faccia Vai 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 Per fortuna che ci sono questi bonus omaggio Dai 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 Ok Cosa mi ha dato Cos'è questo Cos'è questo coso Boh Vabbè Comunque sì ci sono anche i pet Che non so come trovare Per ora si Vabbè guardate quello È troppo forte È troppo potente Allora vediamo Dovremmo riuscire Ad arrivare Oh sono un fast knob Sono un fast knob Cori corri 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 Ok 124 124 Vai Spostiamo le scarpe al neon Guardate che belle le scarpe al neon Ragazzi sono un su snob Sono un knob sospetto Ma che cavolo Ok Più 300 Ma ne dà un sacco Ne dà tantissimo Ok Direi di continuare ad allenarci qui Prendo un pochettino di forza in più E passiamo di là Cori corri 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 Guardate quanto ne ho Ok 214 A breve riusciamo ad andare di là Vai siamo anche più veloci Guardate che roba Siamo velocissimi Ok Perfetto Continuiamo così Ok ci siamo Oh Cos'è un apprendista Non riesco a leggere Ok vediamo di qua Abbiamo sbloccato una nuova zona Andiamo a vedere Il re bella faccia Sta arrivando Il re pollo Oh la spiaggia con i cactus Ok vediamo le sapatte 900 Le sapatte ci sono 2000 Guardate queste 3000 ragazzi Ma un sacco veramente Ok vediamo queste Se riesco a spostarle 500 250 Ok spostiamo le sapatte Per prendere i pet È l'unica opzione Per diventare fortissimo E diventare il ciabattone Più forte di roblox Dai dammi dei pet Quanto costano questi Vediamo 20 di energia Ma niente Open Raro Ok raro Questo mi ha trovato Grande Come si mette Ok Mezzo E dov'è È trasparente il mio pet Boh Si mette così Penso di sì Oh pet Ma non mi dà niente Ma così poco Ma così poco Mi dà Come è possibile Ma sei inutile Oh mio dio 400 Andiamo nell'evento Eh adesso Non sono più così debole Vediamo se adesso Riesco a spostare Qualcosina Vediamo Vediamo un pochettino Queste dai Dovrei riuscire a spostarle 24 60 600 No vabbè Ma non ce la faccio 60 Prendiamo queste Più Da di più qua Da di più 800 Dai non male Non male 800 Dopo ci alleniamo lì Alleniamoci Tananana Ok Mamma mia Sono delle scarpe giganti Ragazzi Fatemi sapere Se dobbiamo giocare ancora Fatemi sapere Se voi avete delle scarpe Supersonico Se siete fortissimi Da bella faccia E tutte ci vediamo In un prossimo Video Di Roblox Ciao